e benvenuti in questo nuovo video del canale dove parliamo di tubit episodio 1 la minaccia raccomandata questo gioco creato da angelo decomito che gentilmente mi ha passato e ho voluto provarlo è un bel rpg fatto con il programma tipo rpg maker però è fatto dannatamente bene ho parlato con lo sviluppatore e in poche parole gli ho chiesto il perché lui mi ha risposto con queste parole allora il gioco l'ho creato perché es the brave me l'aveva chiesto ma visto che non ha più risposto non l'ha mai giocato all'inizio l'idea era quella di creare un gioco simile zelda con i stay brave ma ho stravolto il progetto in un rpg satirico con fatti accaduti realmente su youtube il gioco è comunque stato apprezzato l'ho apprezzato molto anche io perché essendo patito di youtube molte delle azioni le ho viste anch'io dal vivo e lui continua con questa è una specie di teaser su quello che sarà la saga di tubit il gioco si dovrà affrontare con cast trovare partnership allearsi con casa dei andare a bb n sconfiggere zeb nel suo castello is gamer cioè immaginatevi solo che gioco è il gioco mostra alcune caratteristiche per i seguenti capitoli come la presenza di collezionabili il party la vendita di oggetti un sistema di trial ed error e insulti stile mochi island che ho provato ed è dannatamente figo vorrevo dire anche che questo gioco è stato sviluppato credo solo da da angelo e basta è che c'è molto tempo e molto molto lavoro dietro a un gioco come tubit siccome sono dovrebbero essere sei episodi siamo al primo comunque è già un buon inizio ho provato il gioco e mi è piaciuto anzi continuo a giocarci finché non arriverò al castello is gamer e devo dire che è dannatamente figo quindi tagliamo la testa al toro giù nei commenti trovate il link per scaricare il gioco è gratuito e giocateci mi fate sapere cosa cosa ne pensate giù nei commenti e come al solito le solite feffinerie che si dicono sempre quindi lasciate mi piace commentate sotto ci è arrivata la notifica seguitemi su tutti i social ci vediamo al prossimo video settimana prossima scusate anche la qualità del video ma screen recorder col mio portatile fa cagare e niente settimana prossima ciao